Nella vita contadina, nella famiglia dei contadini, sempre da mattina presto, dopo di governare le bestie, governare le bestie, mungere le bestie, portare l'atto al casello. E comunque non erano le mie mungitrici, erano tutti a mano. Puoi dire anche ai putelotti? Eh beh sì, come si è con le caure, le caure sui montagna, in manca, non più verano, le caure, mi da boccia avevo 5 anni, non so, era la guerra, quindi 45, 44 addirittura. Le caure, se ti ne sapevi una, allora le caure è molto... E' più facile. Si, tranquille, perché ti fermi una, ti la mungi, la si ferma la, la rummighina, e ti la mungi, allora, e ne delle scudelle così, di alluminio, mi ricordi, e la, ti ha moldeito la caura così, di bebi la, pena molto così.